Una domenica nera in montagna, un incidente bruttissimo che ha costato la vita di un giovane di 36 anni di Montesilvano, Marco Ferretti. Il tema della sicurezza in montagna torna sempre al centro del dibattito, soprattutto in questo periodo dove il Gran Sasso, come la Maiella, sono gettonatissimi, anche se la modalità dell'incidente di ieri è diversa. Ferretti è morto sulla Maiella nel territorio di Pennapi e di Monte, davanti alla compagna e altri amici che con loro stavano facendo un'escursione per salvare il suo cane, un Aski Winter, caduto in un dirupo mentre inseguiva un capriolo. Con il cane in braccio che aveva recuperato ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di 15 metri, fatale per lui e il suo compagno di vita, un destino che li ha uniti anche nella morte. I soccorsi sono stati velocissimi ma non c'è stato nulla da fare. La montagna abruzzese è frequentatissima sia d'estate che d'inverno, purtroppo però i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Ci sono delle regole fondamentali da seguire, quindi sia d'estate che d'inverno la regola numero uno, per quanto noi diciamo sempre anche ai nostri utenti, è quella di affrontare i sentieri d'estate e le piste d'inverno a seconda delle proprie capacità tecniche e fisiche. Quindi se non si è in grado tecnicamente e fisicamente di sostenere una camminata o una sciata in pista, non bisogna farlo. E poi ci sono le comuni regole di prudenza, quindi rimanere sempre sui sentieri segnalati, sulle piste d'inverno segnalate e diciamo conoscere bene l'ambiente in cui si va e soprattutto informarsi sulle condizioni medio. Ecco, non deve passare il messaggio che la montagna è meno pericolosa d'estate? No, 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 no. La montagna non è pericolosa. È pericolosa a seconda degli atteggiamenti che l'uomo ha, sia d'estate che d'inverno. Quindi se non segui quelle regole purtroppo diventa pericoloso. Ecco, dicevo l'aspetto del meteo. Informarsi sulle condizioni meteo. D'inverno c'è la cosa, sai, la bufera, la neve, bloccati, sepolti dalla neve. Ma è un mito da sfadare perché l'estate arriva il temporale all'improvviso, ghiaccio con la grandine e il vento forte e soprattutto i fulmini sono della stessa pericolosità. Quindi andare in montagna seguendo queste piccole basilari regole. Grazie a tutti.